La grande determinazione, neanche la migliore squadra del Girono che potreva combattere la giurallista? La migliore squadra del Girono mi sembra che sia la giurallista. No, ma di tutti e quattro Gironi. Ma eravamo concentrati al massimo, sono scesi qua. E almeno l'ha ripetuto a tenere questa manifestazione, l'avevamo in seguito per lungo tempo. Sì, sì, no! Adesso mi sento, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento.